Il fatto è che si potrà riprendere la casa di chi se ne frega, va. Perché mi hanno queste cose? Vanno molto... Eccomi, hanno già cazziato. Capirete poi perché. Come fate voi donne? Io odio sta cosa. No, trucco lo so. Prego, devo chiedere i pantaloni. No, no, ma facciamo così. No, no, senza gist. Beh, insomma, non so se si è capito, ma stiamo girando un... No, non è uno spot, è una campagna informativa per far capire ai consumatori i propri diritti. Quindi un fine nobile. Allora, questo è il set della mia parte. Noi facciamo il controcampo. Di delle cose. Ok. Ok. Stai girando. Prima. Quindi parti Ale dai vestiti. In basso, come stai facendo te e andrei un po' più basso il pacco. Ok. Dai una tabba spruzzati anche sulla spalla di Andrea. Ma no, no, dai. Azz! Dai, 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 dai. Non abbiava fastidio. No, lo spalla te e mazone Carmelo. Ah, quindi, finché la spalla è te va bene. Ah, zzz! Immщione! Hai ordinato un pacco waterproof? No, sono fatta prima. Ma era una partita, si parla prima. Ma aveva ordinato un pacco waterproof? Ma avevi ordinato un telefono waterproof? Li facciamo ancora? Quindi, mezz'ora, la formazione di... e mentre mi studi la parte aspettiamo che la doccia si appanni non è di mio appannaggio questa la lascio aspetta aspetta che si sta cambiando ma si usa tra i blocchi l'influencer fare la rima iorca prima di andare a fare l'inversione in questo punto non è fredda faccio così faccio prima faccio così faccio prima hai ragione no era quella del tubo pronti? pronti tutti? ok 9 4 sesta allora direi 3 2 1 azione abbiamo ordinato un telefono waterproof se il prodotto non è quello desiderato puoi cambiarlo sempre entro i 14 giorni e adesso si riguardano le scene venute meglio 2x 5x e l'ultima scena sarà in questo bagno che è microscopico faccio così no? ah così proprio dignità proprio persa completamente guardo lei o faccio come se dovessi fuggire? allora Andrea tu sei un po' diciamo un ospite sgradito si sei un po' ok un po' mesto ok lei ti ha beccato e ti sta cacciando fuori ok non dico triste ma ti senti il passo tipo basso un po' un saldaggio diciamo questo di chi è questo telefono? hai tu? si hai visto qualcosa? spegno pure dice il tasco destra sulla destra c'è il tasco però tutto questo per una nobile causa questa buongiorno Ale hai un oggetto nel carrello confermo acquisto? annulla acquisto confermato sei a conoscenza dei tuoi diritti per gli acquisti online? lo sai che i diritti il diritto di recesso è possibile entro 14 giorni anche solo se cambi idea avevi ordinato un telefono waterproof? se il prodotto non è quello desiderato puoi cambiarlo sempre entro i 14 giorni se i tuoi diritti non sono rispettati puoi rivolgerti all'associazione nazionale difesa dei consumatori e in caso di controverse internazionali la rete dei centri europei consumatori può darti una mano contattando un organo di risoluzione extra giudiziale articolo restituito con successo l'importo è stato accreditato sul tuo conto grazie a tutti